benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e quello di oggi è un video molto particolare sapete che sto vivendo un momento personale piuttosto delicato ho cominciato un percorso diversi mesi se avete visto il video capite bene di cosa sto parlando e mai e poi mai avrei pensato che in un periodo così strano così particolare della mia vita potesse arrivare una sorpresa così grande così importante che potesse letteralmente farmi bacillare quasi commuovere perché vi sicuro che onestamente quando è arrivata la mail io non ci credevo perché pensavo fosse uno scherzo martedì pomeriggio mentre ero a lavoro ed ero in pausa pranzo ho lasciato giù per un attimo il telefono aziendale per prendere quello personale notando che erano arrivate delle mail non ho subito dato importanza alla cosa perché effettivamente sapete che lo spam ormai è quotidiano nelle caselle mail delle persone e quando ho visto twitch ho pensato va sarà la classica pubblicità oppure non so mi sta scadendo l'amazon prime il bonamento di prime a qualcuno magari vogliono farmi testare come sempre fanno i punti canale o quant'altro per poi raccogliere il loro feedback o qualche sondaggio e invece non era questo passano due ore verso le due e mezza tre cosa succede succede che lascio giù il telefono aziendale perché la riunione era finita prendo con le persone perché ero curioso di vedere che cos'erano questi pallini e comandanti aprendo la mail leggo questo finalmente dopo ben cinque tentativi nel corso di quattro anni andati completamente a vuoto la nostra domanda per diventare partner ufficiale di twitch è ufficialmente trovato compimento e da oggi anzi in realtà da martedì pomeriggio siamo ufficialmente partner di twitch ora lo so che per qualcuno che non è avvezzo al mondo dei creator qualcuno magari che non è tanto esperto di twitch o delle live potrebbe dire sì blizzard ma alla fine cioè sti cavoli cosa sarà questa partner e comandanti è un riconoscimento elite che porta tantissimi vantaggi a me e alle persone che mi seguiranno su twitch perché vedete è oggigiorno i canali twitch attivi che streamano almeno una volta al mese una volta al mese sono circa 14 milioni di questi 14 milioni di canali ce ne sono circa 4 milioni che hanno l'affiliazione quella che abbiamo sempre avuto anche noi ovvero la possibilità di ricevere dei soldi dagli abbonamenti e ovviamente anche dal tifo e dalla pubblicità che gira su twitch anche se in realtà la pubblicità veramente è pagata una miseria parliamo di centesimi e comandanti infine c'è la partnership la partnership sono solamente poco più di 50 mila canali 50 mila su 14 milioni capite che voi il rapporto in percentuale è leggermente leggermente a favore dei canali più piccoli normali rispetto a quelli partner partner vuol dire diventare effettivamente dei professionisti dei veri e propri professionisti dello streaming e avere dei riconoscimenti importanti e degli esclusivi vantaggi per il canale questo perché quando avrete questa pallina viola dovete quando vedete un canale che questa pallina viola alla fine del nickname non è come andanti qualcosa di buttato lì a caso è qualcosa che fa veramente una differenza enorme è una cosa che sto provando io stesso anche in queste ore perché vedete e ho già potuto aumentare la codificazione di trasmissione da 4 mila oltre 6 mila migliorando di tantissimo la qualità video durante le live è una cosa che possono avere solamente i partner avere la capacità di archiviare anche per 60 giorni di live indirettamente cosa che solo i partner possono fare cosa che ti dà accesso anche alle fiere al biglietto per il twitch con i gadget e il merchandising tantissime cose che prima non c'erano le emotiche hanno illimitate illimitate ne potrò caricare quanto mi pare il mese prossimo andrò a caricarne la prima quindicina la prima dozzina su twitch ovviamente pagate da un grafico che farà un ottimo lavoro come quelle che comunque girano diverso tempo che diventeranno gratuite anche per i semplici follower del canale di twitch insomma tutte queste cose insieme ad altri vantaggi sono giganteschi e fanno capire che alla fine il lavoro ha pagato perché siamo fatti un culo grande come una casa nel corso del tempo e alla fine ovviamente parlo al plurale perché parlo anche delle persone che mi hanno effettivamente seguito tanto nella mia avventura sul sito viola ma alla fine è arrivato un riconoscimento più grande più importante e assolutamente totalmente inaspettato comandanti perché io tutto pensavo taranè di riuscire ad avere la partnership sicuramente un ruolo chiave l'ho avuto anche il recente king of the sea dove ringrazierò sempre tutte le persone che mi hanno seguito tantissimi durante quell'evento anche stranieri dicevano che gli piaceva nel modo in cui raccontavo le partite e questo sicuramente ha pensato tantissimo per ottenere la partnership perché i numeri sono che sono mettiti tantissimo nell'ultimo mese abbiamo fatto quasi 400 follower solo su su twitch pensate che addirittura a 10 mila follower se raggiungeremo quella cifra la wargrim ci permetterà di fare un giveaway da 700 euro sul canale 700 euro di green non è mai stato fatto nella storia della community italiana eppure probabilmente prima o poi perché non c'è comunque un delà di tempo arriveremo anche a quella a quel premi spero che la gente comunque li apprezzi ricorderò sempre l'inizio quando siamo partiti sul canale 2017 c'è chi mai avrebbe pensato di arrivare a essere il punto di riferimento in questo gioco per quanto riguarda gli italiani su twitch perché tanti me lo dicono blizzard ti guardo sempre perché comunque sei una fonte di informazioni sei super presente aiuti sempre la gente così insomma tanta gente è venuta a aiutarmi e salutarmi nel corso del tempo e oggettivamente credo di aver tante volte sbagliato perché non sono certamente il prototipo del creatore di contenuti modello ho dei limiti caratterali piuttosto importanti che non mi fanno essere un buon creatore di contenuti perché comunque dovrei essere più diplomatico dovrei essere più paraculo soprattutto in modo da riusciarmi la gente ma io non lo so fare io sono molto diretto nelle cose sono molto schietto sono sempre sincero dico sempre quello che penso e oggigiorno vi posso assicurare che la verità non piace sempre a tutti anche se comunque tante volte alcune persone mi hanno detto che questo lato di me lo apprezzano particolarmente come diceva qualcuno sempre durante le mie live io non ho mezze misure e o piaccio oppure mi odiano quindi va così però considerando anche il mostruoso numero di abbonamenti in aumento e il fatto che abbiamo raggiunto questo importante risultato di partner di twitch credo siano molti di più quelli che mi apprezzano piuttosto che quelli che mi disprezzano anche se solitamente il più delle volte una particolarità quelli che ti disprezzano fanno sempre più rumore di quelli che invece ti apprezzano e se stanno in silenzio è una cosa che ho sempre notato e mi ha un po incuriosito nel corso del tempo sia su twitch che su youtube uno potrebbe dire blizzard sì ma stai parlando del canale twitch e youtube cosa c'entra c'entra come perché comunque le attività che porto qui su youtube sono una costola di quello che faccio su twitch e senza sicuramente la piattaforma streaming andrebbe a morire anche il canale di youtube anche perché comandanti tutto quello che facciamo e soprattutto il software e l'hardware che utilizziamo è pagato da twitch youtube comandanti paga è un euro e dieci un euro e venticentesimi ogni mille visualizzazioni capite voi che un canale che fa 2000 views come me mediamente a volte a video e raccoglie 3 euro ci metterebbe una vita a riuscire a fare dei soldi per comprarsi quello che invece su twitch è all'ordine del giorno tra abbonamenti beat donazioni e quant'altro infatti quelle persone su twitch sono quelle che veramente aiutano il canale i nostri canali ad andare avanti ottenere la partner da soli perché questo abbiamo fatto è una cosa difficilissima oggi se ci pensate ci sono essenzialmente due modi oggi per ottenere la partner facilmente uno è essere famosi su altre piattaforme magari sei famoso su tiktok magari sei famoso su instagram magari sei famoso su non lo so facebook decidi migrare su twitch con la tua community e quindi ti porti anche loro che magari in parte ti seguono e quindi i numeri li fai facilmente ma nel mio caso non è così perché non ho nemmeno instagram comandanti quindi fate voi oppure il secondo modo è di essere raccomandati come è molto semplice mettiamo che tu hai uno streamer che conosci bene tuo amico famoso lui comincia a ospitarti nelle sue live tu apri un canale e cominci ad essere pubblicato da lui che ti aiuta a lanciare il tuo canale in modo che i suoi follower diventano in parte anche i tuoi ecco che in quel caso in un paio di mesi la partnership la ottene facilmente ed è in questo modo che tantissimi canali se ricordate che arrivarono durante la pandemia riuscirono a trovare la partnership perché grazie alle ospitate sui canali di omietol e power e tantissimi altri creator ottennero in un mese la partnership senza minimamente nemmeno conoscere quelli che magari erano i setup base di obs studio che è il software più famoso per ormai per le produzioni di live twitch e anche su altre piattaforme meno note quindi diciamo che farsi da solo è una cosa bella però una cosa anche tanto tanto faticosa e considerando che ormai sono passati anni dal lancio del mio canale io ormai avevo perso le speranze pensavo che questa partnership non sarebbe mai arrivata però ragazzi è arrivata e di questo vi ringrazierò sempre anche tutte le persone che hanno aiutato con le grafiche le persone che hanno aiutato con semplicemente i contenuti di discord le persone che hanno eseguito le live ma anche soprattutto sostenuto fatto le donazioni per comprare trattature sempre migliore ragazzi io ho pochi follower rispetto ad altri mostri ma delle persone straordinarie sul canale comandanti durante il mio compleanno nel giro di due giorni due giorni mi avete regalato quasi 500 euro per comprare una sedia bellissima della razer che trattata però abbiamo avuto anche in sconto grazie all'affiliazione razer e in due giorni quali altri creator italiani di world of warship riescono a raccogliere in due giorni 500 euro per comprarsi una sedia da gaming quindi delle volte io sicuramente non sono la persona più brava a gestire le persone perché in confronto a quello che tanti mi hanno dato forse non riuscirò mai nemmeno ripagarli anche se tanti dicono che in realtà sono in debito perché comunque piacciono i video gli aiutati tanto a giocare a migliorare come giocatori ma in realtà i soldi hanno sempre un certo valore e economicamente non riuscirò mai a ripagarvi mai per tutto quello che avete fatto a me durante il corso del tempo e questa è una cosa che porterò sempre con me anche quando magari smetteremo di streamare in futuro e semplicemente perché avremo altro da fare non avremo più il tempo da dedicare ai giochi la sera potrebbe succedere in futuro non lo so ma è una cosa che prima o poi bisogna mettere in conto questo video comandante non esce solo per ringraziarvi della partnership e per rendervi noti di questa per venire noto di questa particolarità che abbiamo ottenuto ma anche per un'altra cosa molto importante che devo comunicarvi ed è il fatto che a partire da oggi perché il video uscirà giovedì anche se lo stiamo registrando tre giorni prima ma comunque giovedì quando uscirà il video quindi la giornata del rilascio del video il canale twitch andrà in conto un importantissimo cambiamento un cambiamento che arriva in maniera volontaria ma in maniera anche un po forzata perché vedete è una scelta che non avrei mai voluto fare ma sono costretto a fare perché mi rendo conto che world of worship è sempre più lontano da quelle che sono certi standard che io avevo in passato e che mi aspettavo dalla wargaming rimarrò sempre grato alla wargaming per la pubblicità per i giveaway per la possibilità di regalare le navi ai miei follower ai miei canali per la possibilità comunque di avere accesso informazioni e test in anteprima perché la wargaming comunque mi ha sempre sostenuto tantissimo nell'arco del tempo però comandanti le scelte che ha preso negli ultimi due anni sono molto lontane da quello che è la mia idea di world of worship da quello che era world of worship all'inizio di conseguenza ha deciso che per la prima volta porterò veramente non solo come test ma attivamente delle modifiche al canale per quanto riguarda i contenuti che a partire da oggi quindi giovedì giovedì 20 25 di ma di maggio avranno un nuovo gioco che resterà costantemente sul canale e si dividerà praticamente con world of worship le attività twitch settimanali youtube rimarrà sempre ad uso esclusivo di world of worship quindi solo per le navi ma per quanto riguarda twitch il martedì il giovedì e il sabato avremo world of warcraft e non un semplice world of warcraft ma world of warcraft vanilla quindi world of warcraft quello hardcore quello crudo quello quello più cattivo quello che la gente magari non conosce cercherò di farli conoscere nel corso del tempo io ho giocato tantissimo world of warcraft dal 2005 fino al 2008 a quello vanilla e fino al 2011 in quello of warcraft poi con cataclyves ho smesso di giocare io non giocherò quindi quello aggiornato che secondo me non è più quello di una volta giocherò in mezzo a centinaia di migliaia di giocatori che giocano oggi a vanilla perché server sono veramente popolosissimi specialmente farm dove stiamo creando il nostro bg andremo a crearlo proprio stasera durante la live di presentazione di world of warcraft a partire a 19 quindi era giusto che vi comunicassi questo importante cambiamento quindi torneremo su azzeroth a calcare quelle terre con magari non lo so una classe che scopriremo domani perché comunque lo deciderò l'ultimo insieme ai follower il live twitch quindi lunedì il mercoledì e venerdì rimaniamo su world of warships quindi dalle 20 alle 22 22 30 con normale attività quindi rancad random battle recensioni tutto quello che volete che portiamo da sempre tra le mari di questo gioco per quanto riguarda invece il martedì il giovedì e il sabato dalle 19 alle 23 saremo attivi su azzeroth e cercherò di portarvi questo gioco che non ho mai portato prima sul mio canale di twitch è una cosa che mi sento di dover fare non solo perché è il gioco mio preferito in assoluto ma anche soprattutto comandanti perché comunque è world of warcraft è il motivo per cui esisto io come giocatore è stato il mio primo gioco pvp online tanta gente mi ha sempre domandato perché ti chiami blizzard per questo comandanti il nome della software house che ha creato world of warcraft è la blizzard entertainment o la blizzard activision chiamatela come volete io ho una tale amminerazione per quell'azienda e soprattutto per world of warcraft che il mio nickname diciamo di gioco principale è sempre stato dedicato a quella piattaforma quella software house e quindi mi sembrava giusto prima o poi riuscire a dedicarci anche del tempo per portarla in streaming e farvi conoscere quello che nel corso del tempo ho imparato amare quel gioco lì che secondo me è straordinario quindi quella sarà effettivamente il nostro nuovo calendario settimanale che porteremo tutte le settimane su twitch ovviamente vacanze e ferie permettendo comandanti siete domande vi invito come sempre a farle a farle nei nei commenti cercherò di rispondere ragazzi è incredibile visione giuro che io ancora non ci credo vi giuro che una lacrima è scesa mentre leggevo la mail perché veramente mi sono commosso perché è un riconoscimento enorme solamente chi ha un canale di twitch può capire quanto è importante la partnership e soprattutto quanto è faticoso e difficile riuscire a ottenere quella maledettissima spunta viola vicino al nickname magari aiutati da qualcuno sicuramente altri lo possono dare per scontato ci facevamo primo l'esempio dei dei bustati e anche dei famosi su altre piattaforme però comandanti farlo da soli è come scavare l'everest veramente qualcosa di di pazzesco io io ancora non ci credo e giuro che non ci credo anche perché ve l'ho detto ho fatto altre cinque sei volte ho anche perso il conto richieste nel corso di quattro cinque anni ma non erano mai andate a buon fine a volte avevano risposto negativamente altre volte nemmeno rispondono perché ovviamente hanno migliaia e migliaia di richieste ogni giorno quindi figurati se hanno la capacità di rispondere a tutti questa volta non solo hanno risposto e tra l'altro hanno risposto in soli due giorni pazzesco perché ho fatto richiesta venerdì la risposta è arrivata martedì quindi se leviamo il giorno festivo sono due giorni feriali effettivi quindi non solo hanno risposto hanno risposto anche positivamente come avevano mai risposto prima e la cosa veramente mi ha lasciato letteralmente al libido veramente a bocca aperta infine ultima cosa prima di andare comandanti per ringraziarvi ovviamente di questa possibilità per ringraziarvi di anche perché mi avete comunque supportato nel corso del tempo a raggiungere questo obiettivo senza precedenti per il mio canale o per qualsiasi canale di wops italia in ambito appunto italiano su twitch comandanti faremo una live venerdì una live speciale quindi domani perché appunto come detto prima il video uscirà giovedì quindi una live il 24 di maggio dove scusate il 26 di maggio dove faremo una live di ringraziamento dalle 20 alle 23 su twitch con world of warships e dove giocheremo tutte le navi che vorrete voi qualsiasi nave che vorrete venga schierata sommergibili navi ritirate navi super rare navi leggendarie navi ad acciaio navi a carbone qualsiasi nave perché le ho praticamente tutte anche le porterie qualsiasi cosa vorrete giocare la monteremo in acqua e passeremo tre ore insieme divertendoci e parlando un po anche della nostra nuova avventura su azzerot che tra l'altro comincerà proprio stasera quando uscirà il video questo comandanti è un pro memoria giusto per ricordarvi l'indirizzo e la live speciale di venerdì di ringraziamento per quanto riguarda la nostra partnership su twitch siamo partner su twitch finalmente grazie ancora di tutto comandanti ci vediamo in acqua su world of warship durante la settimana nevo video uscirà probabilmente sabato come sempre e per il resto grazie ancora ci vediamo in acqua e ci vediamo anche tra le terre di azzerot come sempre buona caccia in acqua e ci vediamo anche tra le terre di azzerot come sempre buona caccia